Abbinati. Grazie, professore. Arbus, il tuo tema è corretto, anche scritto bene, ma evacuo. Non c'è passione, non ci sono emozioni, non c'è una tua interpretazione personale. Non ho nessuna interpretazione personale da inserire in un compito di italiano. Lo so che ti serve la media dell'otto per anticipare la maturità. Questo tema non merito più della sufficienza. Menazza. Il più grande uomo della storia è Adolf Hitler. Professore. Lei parla sempre di socialismo, di democrazia, ma poi non permette di fare un tema sul personaggio storico che uno vuole. È democratico questo? Democratico? Perché era democratico Adolf Hitler? Seduto. Sta zitto. Sta zitto. Pensaci, Benazza. Pensaci.